del resto dell'Italia, ma temo che purtroppo non potrà essere dedicato a questo spazio. L'invento dello sforzo di tutti deve essere trovato un modello sostenibile che non può che coinvolgere all'ambito tutti gli operatori e istituzioni finanziarie che però non possono anche se pubbliche o parapubbliche, contenere capitale a conto di tutto e quindi bisogna che ci sia una spalmatura dei costi, dei ricavi e dell'investimento anche nelle aree a minore ritorno economico, cioè non è possibile che tutta la parte a basso rendimento sia accolato all'invento di tutto. E' vero che per noi, per un altro tempo non vedissimo questo modello non è stata sostenibile e quindi siccome non ci possiamo permettere di stare almeno di queste costrutture, allora che vogliamo fare il modello. Grazie.